L'inaugurazione di una casetta utile per tutta la comunità. Sì, sono molto felice di questa casetta che per noi è la terza sul territorio comunale, la prima installata da Ario Reti Holding. È in una zona strategica perché è all'interno del quartiere del Peslago, che è un quartiere densamente abitato, vicino ad un parco pubblico molto frequentato e vicino alla scuola dell'infanzia, alla scuola elementare. Quindi io spero veramente che i miei cittadini la apprezzino e la utilizzino. Come se ne può usufruire? Si può usufruire mediante una tessera. La tessera si può prendere ad un totem che si trova nel portico all'ingresso del municipio, proprio da parte del distributore dei sacchi rossi. Lì si può prendere la tessera e ricaricarla. Il costo per un litro di acqua gasata o naturale, sempre refrigerata, è di 5 centesimi. Prezzi accessibili, quindi un'acqua purificata, la popolazione ne sarà sicuramente contenta. Sì, spero di sì. Spero che con questa ulteriore casetta possiamo ancora aumentare l'utilizzo dell'acqua cosiddetta del sindaco e diminuire la produzione di rifiuti di bottiglie di plastica. Siamo molto contenti di aver inaugurato questa casetta a Oggiono. L'utilità di queste casette è abituare la gente al consumo dell'acqua potabile e di conseguenza a ridurre tutto l'utilizzo di plastica. Hanno acqua potabile corrente per cui sempre fresca e soprattutto sempre molto ma molto controllata. Questo per noi è fondamentale. Oltre a Oggiono avete in mente altri paesi del territorio dove posizionare queste casette? Noi abbiamo iniziato già qualche anno fa. Purtroppo il Covid ci ha fermato perché avevamo iniziato nelle scuole e diventava un punto di aggregazione per cui abbiamo dovuto sospendere sia l'installazione sia l'erogazione. Adesso per fortuna questo problema sembra passato. è nostra intenzione di procedere anno con anno a installare un certo numero di casette.